salve gente allora oggi mi tocca fare un video per forza sullo titolo non lo volevo fare ragazzi ve l'avevo detto all'inizio del video di ieri perché perché ragazzi ma da che vogliamo parlare veramente delle parole di un megalomani pallone confiato pallone sicuramente confiato pure cioè veramente però visto che in molti ieri me l'avete chiesto oltre adesso ne parleremo ai tantissimi messaggi e vi ringrazio relativi al mio sfogo la mia idea insomma sul video di ieri però molti altri mi hanno chiesto appunto delle opinioni su quello probabilmente che non avevano visto il video ieri perché il titolo comunque non parlava di calcio e mi hanno chiesto opinioni sulle parole di Rotito ne vado a parlare in questo video ma in realtà una parte breve spero sono la mia opinione su quello che insomma lo Tito ha espresso ieri e un'altra parte invece sono i ringraziamenti per quanto riguarda il video di ieri se non sapete di cosa sto parlando andatevi a recuperare il video di ieri dove avevo palesato comunque con voi mi stavo confrontando sull'idea di andare via dall'Italia se vi interessa l'argomento il video è a disposizione ovviamente se non sapete di cosa sto parlando probabilmente non siete iscritti al canale quindi iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati su tutti i contenuti del canale ovviamente potete sempre disiscrivervi quando vi pare ragazzi il mondo è bello perché è vario ma soprattutto perché in gran parte del mondo si spera ci sia ancora la libertà di scelta e potete scegliervi anche di cancellarvi in qualsiasi momento tutto è gratuito instagram nostravamo76 dove ieri ho letto tante cose interessanti ripeto ma dopo ci arriviamo sul discorso espatrio partiamo invece da lo Tito allora ragazzi io trovo veramente questo personaggio quando parla un personaggio che la senta ridicolo un personaggio grottesco un personaggio che non lo so veramente poco elegante io tantissimo tempo fa a proprio chi segue il canale dagli inizi si ricorderà io dissi che lo Tito era un mercante uno di quei mercanti che per carità non se la passava male magari vendeva stoffe sai nel medioevo comunque tre quattrocento anni fa un mercante di questi che comunque i soldi ce li aveva vendeva poi un giorno si è trovata l'occasione di comprarsi un titolo nobiliare e da quel momento pensava di essere nobile ma ovviamente nobile non era perché poi non nasci da una famiglia nobile sei uno che fa impiccetti così e comunque diciamo che il tuo titolo nobiliare lo sbattevi ai 420 già un gesto che ti qualifica di come tu non sia un nobile nel momento in cui vanti questo credito ma essendoselo comprato diciamo lo usava più che altro per mostrare il suo stemma piuttosto che costruirsi una casata dopo tanti anni ancora stiamo a sto livello cioè abbiamo ancora il mercante che fa vedere che lui è un nobile che lui è ricco che lui fa queste cose ma in realtà la sua credibilità resta sempre quella di un mercante ovvero uno che riesce a vendere il fumo e a venderti anche bene la propria merce ma è quello è di nobile non ha nulla e si vede nelle parole e negli atteggiamenti ieri ripeto io avevo preso e nel video di ieri ve l'avevo anche detto l'unica cosa positiva che avevo preso di tutto il suo discorso da amicalomane e da esaltato era il fatto che ha ammesso cosa che negli altri anni non aveva mai fatto diciamo nel suo sproloqui nel suo parlare troppo forse inconsapevolmente non si è reso conto di aver ammesso di aver ricevuto delle indicazioni chiare dell'allenatore su dei ruoli da sistemare e che lui ha detto che andrà quei giocatori li andrà a comprare in quei ruoli questa è una cosa che negli altri anni non l'ha mai detto perché lui non ha mai detto ah io non ho mai detto che avrei comprato un giocatore lì o un giocatore là lui per esempio adesso si è esposto probabilmente senza neanche accorgersene perché tanto lui piace chiacchierare si è esposto dicendo che mancano vanno coperti dei ruoli e quindi quei ruoli non ci aspettiamo che adesso vengano coperti il fatto che lui dica Sarri si limita a dirmi i ruoli poi i giocatori li vado a scegliere io li scelgo io ragazzi non lo dovete prendere come Lotito va in giro in Europa oppure prende l'almanacco Panini o chissà cosa e scelgo io quali giocatori perché lui capisce dei calci nella sua testa forse vorrebbe pure far credere questo in realtà Lotito ma che cosa capisce dei calci non capisce nulla non conosce sicuramente i giocatori se gli chiedete delle squadre gli chiedete da dove provengono certe squadre probabilmente non sa neanche il campionato di provenienza lui ribadisce che adesso ha un gruppo di otto persone che si occupa dello scouting di giocatori il che è buono perché ripeto uno dei limiti sottometitari era proprio il fatto che lui non avesse diciamo degli osservatori ma che si limitasse a diciamo a prendere consigli dai famosi amici lui stesso li ha definiti così o degli amici sparsi per il mondo che mi danno delle indicazioni o mi segnalano dei nomi bene speriamo che qui non sono gli amici di Lotito ma che siano gente competente non so chi sono questi otto a me non mi hanno chiamato altrimenti qualche nome gliel'avrei fatto comunque mi sarebbe piaciuto aiutare la Lazio in questo per carità non che debba prendere i nomi che dico io ma sicuramente in questi anni tra nomi dati buoni e meno buoni ci avrei azzeccato più io che tale ovviamente anch'io avrò pure dato dei nomi che non sono decollati per carità però vi posso assicurare che tra i tanti che ho fatto se andate a rivedere lo storico sono molti ma molti di più i giocatori che poi hanno fatto bene e anzi chi li ha presi poi li se li ha anche rivenduti bene perché poi la fortuna di una società è anche saper rivendere comunque diciamo ragazzi che vi devo dire è uno che praticamente parla come se avesse creato la società perfetta che è una società assoluta che ha preso due soldi da Milinkovic è arrivato secondo una volta insomma e sappiamo secondi come cioè con le difficoltà della Juve con un Inter un Milan un Napoli impegnati in altre competizioni anche insomma tu sei uscito subito dalla Coppa Italia hai fatto sia in Europa League che in Conference praticamente avevo avuto il miracolo del secondo posto che ci ha permesso di avere dei soldi in più probabilmente il quarto posto l'avremmo comunque preso ma il secondo posto ci ti ha permesso di avere dei soldi in più hai avuto quest'altro miracolo perché sei un fortunato bastardo che è riuscito a prendere anche i soldi di Milinkovic ci posso pure mettere la faccia tosta anche delle capacità però dai la fortuna è tanta di Lotito e quindi lui è venuto anche a raccontare che lui è stato praticamente il salvatore della patria perché si è preso a Lazio coi debiti ci ha pensato lui a far questo insomma ragazzi vi ripeto tante cose tante cose che raccontate in un certo modo sicuramente corrispondono e corrisponderebbero alla verità ma raccontate come racconta Lotito sembra che chissà che cazzo ha fatto in realtà proprio la sua poca conoscenza di come veramente funziona il calcio rende tutte queste parole ridicole perché nessuno si vanta di avere otto persone a fare scouting come se fosse chissà un abbiamo i servizi segreti della Lazio che scovano chissà chi per adesso non abbiamo ancora preso nessuno quello che è certo è che i soldi sono arrivati i soldi non sono stati spesi e ripeto il fatto che li scelgo io in realtà è anche vero ragazzi lui l'ha sempre scelti nel senso se tale doveva spendere 15 milioni lui gli diceva ma non c'è stanno alternative si l'alternative c'è questo da 8 ecco via quello da 8 quindi eccole la sua capacità di scelta è questa perché poi vedete che di fronte a un giocatore da 15 milioni poi non si sa questi bonus se c'è stanno non c'è stanno io so che so 15 più 4 di bonus più una piccola parte di futura rivendita però te li definisce ho speso un botto ma sei speso un botto perché sei un mercante poraccio perché se sei uno se fossi veramente parte dell'elite del calcio 15 milioni per un giocatore sarebbe il minimo il minimo e invece per te è un botto è un botto ho speso un botto per questo però è un fenomeno è un coso intanto che è un fenomeno è tutto da dimostrare io lo spero e me lo auguro però che hai speso un botto sei solo un poraccio ripeto sei un mercante che faride l'elite del calcio e i nobili del calcio quindi mi sembra molto un oronzo canà che se dice da solo mi avete preso un coglione ma da solo se dice anche sei un eroe ecco se la canta se la suona sono molto più d'accordo sulla prima parte della battuta però ripeto vedremo alla fine del calcio mercato perché per adesso sono solo chiacchiere ripeto forse anzi lo metterò proprio nel titolo lo chiamerò chiacchieramen il nuovo supereroe della Lazio del campionato della serie A del calcio mondiale si chiama chiacchieramen ecco chiacchieramen vedremo se rimarrà questo supereroe fatto di chiacchiere o se tornerà alle sue vesti normali senza costume di uno che magari fa i fatti invece di tante chiacchiere gli eviterei di fare altre interviste perché veramente la piazza si sta per quello che mi avete scritto insomma ma io la comprendo questa cosa si sta veramente rompendo i coglioni di tutte queste chiacchiere che non servono a nulla anche perché molte di queste sono veramente delle fantasie di un esaltato che si veramente si auto incorona con dei meriti che veramente secondo me non ha e non ha dimostrato di avere contrariamente a quello che dice ragazzi questo è quello che vi dico il titolo ho detto prendiamo per buono il fatto che comunque lui ha messo in modo cosciente o incosciente ha messo che deve comprare i giocatori stiamo aspettando che li compra poi ripeto alla fine faremo le somme tra cui saremo anche disposti a fare un applauso oppure dire ancora una volta che il supereroe è andato in azione e chiacchiera man si è ancora mostrato per quello che è realmente vado avanti invece nel senso chiudo un po' il video soprattutto per quanto riguarda il discorso di ieri allora ragazzi grazie veramente a tanti a tanti quasi 90 commenti su youtube ma tanti tanti su instagram di gente che neanche mi segue sul canale che gli è capitato il video per caso per il discorso del fatto che sto pensando di cambiare area io e mia moglie vorremmo lasciare l'italia per tanti aspetti mi spiace quelli che non capiscono che non è che non c'è un discorso di destra o sinistra ripeto c'è un discorso di come uno vede che viene gestito un paese o meno le scelte politiche che sono lecite di ogni governo perché chi sarà al governo in modo lecito e regolare ha il diritto di avere le proprie idee il problema è che quando queste idee non collimano con le mie ma ripeto non a livello storico perché ripeto non ne faccio un discorso storico di destra o sinistra ma proprio a livello pratico cioè il momento in cui tu neanche entri e senza motivo incominci a fare i tagli a reddito il super bonus me lo abolisci del tutto ripeto cose che secondo me funzionavano per tenere un po' a galla il paese non perché sia stato fatto dai 5 stelle o chi che sia chiunque avesse fatto questi provvedimenti io li ritengo provvedimenti che erano giusti per tenere a galla un paese cosa che è stato perché quei provvedimenti hanno tenuto a galla in questi anni questo paese e tuttora il benefit del super bonus ancora oggi perché la stessa Meloni ha detto che i 4 miliardi li ha presi dal super bonus da quello che il super bonus ha fatto incassare allo Stato quindi ancora non si capisce per quale motivo si è dovuto togliere una formula del genere comunque diciamo il momento in cui tu spingi per l'evasione perché poi le scelte che si fanno sono chiaramente per chi evade soprattutto per i condoni per i furbi che magari ci sarà anche tanta gente che non si è potuto permettere di pagare alcune spese ma la maggior parte è gente che è abituata a non pagare le tasse ma noi facciamo condoni nel momento in cui tu mi fai uno studio o comunque una proposta di ristrutturazione lavorativa basata su contratti di precariato ripeto io non vedo nessuna formula anzi vedo sempre peggio soldi spesi spesi male soldi che non ci sono gente incapace di portare anche il PNRR davanti avanti fermi perdiamo soldi già non ce l'abbiamo quelli che ce l'abbiamo continuiamo a non andare soldi gente che si è proclamata pronta gente che fa slogan faremo qui la meritocrazia di qua di là poi all'agricoltura ci mette il cognato mi immagino quanto sia preparato il cognato che fa che che mette mostra la carta di 380 euro per i più bisognosi che vale una volta l'anno cioè 380 euro la carta vale per tutto l'anno però la devono avere almeno le famiglie che hanno almeno tre componenti quindi in tre devono campare con un euro al giorno e il ministro che per meritocrazia è arrivato a fare il ministro di ricoltura ci dà anche una lista di cose che puoi comprare e non puoi comprare quindi oltre che me li dai mi dici pure quello che posso andare a fare la spesa al suo mercato e la cosa che mi è proprio venuta agli occhi e che mi ha fatto ragionare è che tu mi metti che io posso comprarci con quei 180 euro del pesce fresco e invece non posso comprare il pesce surgelato adesso se veramente questa gente capisse cosa vuol dire morire di fame capirebbe anche e per quello che mi fa incazzare un governo del genere perché tu togli 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 e poi ti presenti con una carta inutile inutile perché se per voi questo è un grande aiuto che invece si dà alle famiglie vuol dire che non capite qual è il problema delle famiglie perché se tu mi dai 680 euro e il discorso vabbè è sempre meglio questo che niente è una stronzata è una stronzata che questa è una presa per il culo e ripeto non parlo per me perché io non rientro a prendere questa carta quindi parlo proprio per quei voracci che conosco che questa carta probabilmente gli arriverà probabilmente perché poi quello che non vi dicono in televisione è che questa carta è stato stanziato verranno coperti i due terzi degli aventi diritto a questa carta perché un terzo nonostante avranno il diritto di prenderla la carta non la riceveranno perché lo Stato non ha messo i soldi sufficienti per coprire tutta la platea per questa carta voi pensate dove stiamo cioè io praticamente magari io vicino di casa tutti e due abbiamo diritto a questa carta io la prendo e lui no perché in base a quale cosa non si sa di sicuro non ci stanno i soldi per coprire tutti quindi ci saranno ogni comune avrà una lista di chi potrà riceverla e chi non potrà riceverla nonostante avranno tutte e due le stesse i stessi diritti i stessi diritti e comunque ripeto tu il pesce fresco perché tu c'hai sordi e non capisci che il pesce fresco magari me lo potessi comprare ma per quanto costa io fa una famiglia di tre persone con 380 euro che vargono per tutto l'anno io devo comprare per forza quello surgelato e tu non me lo puoi impedire perché te ti prendi per il culo perché che vuol dire allora comprati le cose ricche con 380 euro levati degli sfizi comprati il pesce fresco questo è il tuo messaggio vai ti do 380 euro per una sera vatti a mangiare il caviale vatti a mangiare un'aragosta ma che mi sta piare per culo ma io sto a morire di fame io sto a contare i centesimi 380 euro vuol dire che io magari piuttosto che prende una fetta di pesce spada che mi costa 30 euro con quei 30 euro ci compro 6 scatole di merluzzo all'euro spin per dire pure le 7 forse 7-8 ne compro perché ci posso campare di più che una volta un pesce spada perché io lo sfizio non me lo posso togli e sta gente non lo capisce e comunque questo è per far capire a quelli che è io ho questi ragionamenti che mi mandano in cappella non perché detesto a dei sinistri perché se questo me l'avesse fatto Bellinguer sto ragionamento del cazzo di dammi 380 euro e una lista di cose da comprare tra cui il pesce fresco sì e il surgelato no quindi vuol dire che non hai capito io mi andavo a fanculo per Bellinguer quindi non è chi lo dice mi fa incazzare proprio il ragionamento comunque ripeto io ringrazio tutti quelli che mi hanno dato i consigli di dove magari andare di quello che fare di lasciare di seguire insomma il cuore tutte queste cose che sono bellissime da leggere ma io ringrazio soprattutto quelli che su Instagram ripeto non seguendo il canale hanno voluto però scrivermi la loro storia ecco ci sono state più di una persona ma adesso numericamente non vi dico però diverse persone che mi hanno raccontato la loro storia dei migrati nel senso di quelli per farmi capire la loro realtà i motivi per il quale se ne sono andati molti anche dei motivi per i quali se ne stanno andando perché molti stanno lì per lasciare l'Italia quello che un po' mi rattrista nel mio caso e negli altri che vedo che ormai si è tutti un po' esausti nel senso tutti hanno questo desiderio di lasciare purtroppo quella che è la nostra patria altro che patrioti patrioti perché se tu mi metti in condizione di voler lasciare la patria ma patrioti è un par di palle ma ripeto ma loro perché sto termine patrioti lo usano e quindi mi incazzo con questi ma ripeto queste condizioni che trovo me le poteva dire chiunque ma mi fa ancora incazzare di più chi mi dice che era pronto e che mi dice patrioti ma patrioti di che che mi stai a fare io dopo 30 anni quasi di lavoro in nero perché ho dovuto il lavoro in nero di lavoro da schiavitù di tutto quello io ho fatto e che dice la gente non è abituato a fare sacrifici io sono 30 anni porca troia che faccio sacrifici e con i sacrifici mi sono dovuto permettere sta casa che non riesco più a mantenermi perché i mutui mi sono arrivati alle stelle perché le bollette sono arrivate alle stelle qui io e mia moglie tutte le mattine i sacrifici li facciamo mia moglie soprattutto si fa un bucio di culo che non è neanche il paese suo si fa un bucio di culo come una capanna sfruttata e risfruttata cioè tutte queste cose mi mandano in cappella perché noi i buci di culo ce le facciamo e nonostante queste non riusciamo a vivere nel nostro paese degnamente non riusciamo a vivere il pesce fresco non me lo posso permettere neanche se prendo lo stipendio figuriamoci con una carta delle 180 euro che mi deve valere tutto l'anno non me posso permettere il pesce fresco non me posso permettere due anni di seguito una vacanza perché l'anno scorso io la vacanza l'ho fatta è anche bella e lo sapete perché l'ho fatta perché c'è l'ultimi sordi da spendere perché ho detto va affanculo me li voglio spendere in una vacanza io, mi moglie e mi figlio capito anche se mi figlio sarebbe il figlio di mia moglie in realtà del primo matrimonio però lo considero figlio perché alla fine da quando è bambino lo conosco e l'ho voluto spendere perché non siamo mai riusciti a fare una vacanza tutte e tre insieme perché non ci sono state mai le occasioni perché i datori di lavoro non ti davano cosa perché io stavo bloccato con i miei genitori per tanti motivi l'anno scorso quando i figli hanno fatto 21 anni siamo riusciti a fare la prima vacanza insieme e io questo ragazzino ce l'ho da quando ce n'ha 4 anni e mezzo siamo riusciti a fare una vacanza insieme quando lui ha fatto 21 anni e solo perché ho detto senti io sai che c'è Roma vaffanculo ci siamo sposati e ne abbiamo fatto un viaggio di nozze ne abbiamo fatto un cazzo eppure la parella si fa un bucio di culo come la capanna e non c'è la possibilità che fa altro perché io magari non riesco a dargli altro ma io in questo mese non riesco a dargli altro perché non ci stanno le condizioni poi ripeto forse perché ho sempre lavorato in un settore che invece da andavanti è andato indietro che è quello della ristorazione però ecco io ringrazio tutti quelli che invece hanno mi hanno raccontato la loro storia ripeto la tristezza è che tutti hanno non avrebbero lasciato l'Italia se ci fossero state le condizioni era chiaro che tutti non avrebbero lasciato l'Italia ovviamente gente che ha lasciato l'Italia non tutti adesso non è che c'è stata un'immigrazione di massa in questi mesi di destra negli anni quindi vuol dire che anche gli altri anni si stava male però però si denota che in questi mesi almeno da quello che mi stai raccontando c'è proprio la voglia forte di tanta tanta gente di andarsene ripeto magari prima magari prima era uguale io prima questa cosa non l'ho notata io la sto notando adesso perché adesso anche io comincio a pensarla questa cosa e ringrazio ripeto tutti quelli che mi hanno raccontato le loro storie e anche quelli che mi hanno raccontato ci sono state un paio di persone che mi hanno raccontato come per tornare sul discorso che i governi possono influire molto sulla vita delle persone come come un paio di questi amici con le loro famiglie purtroppo si ritroveranno veramente nella merda più merda più merda che si può fare dal prossimo mese ovvero dal momento in cui perderanno il reddito e non stiamo parlando di gente paracula gente che sta sul divano tutte queste stronzate che vengono raccontate che non dico che non so avere ci sarà pure la gente che come sempre in Italia se ne approfitta perché tanto in Italia qualsiasi cosa facciamo ci sarà sempre quello del paraculo come quelli che fanno le false invalidità che si prendono la pensione di invalidità ci sta quello veramente invalido che non riesce a ottenerla ci sta quello che far finto è invalido che la ottiene come in ogni caso è che noi siamo un paese di paraculi di gente disonesta fondamentalmente è inutile che ci prendiamo per il culo noi siamo un paese di disonesti e per questo che da chi ci guida fino all'ultimo i disonesti stanno in tutti i livelli però chi ci guida sapendo che è disonesto fa le leggi per levarsi i reati per togliere per depotenziare le pene perché perché tu sei il primo che vai a delinque e allora vuoi stare col culo parato e siccome che tu stai a quel livello e ti puoi permettere di cambiare le regole invece di deasprirle le regole ed essere più cattivo con chi far paraculo invece tu alleggerisci perché perché essendo un paese dei paraculi e alleggerire le pene per i paraculi vuol dire avere voti perché tanti paraculi se ci sono più paraculi che gente onesta ovviamente io vado a premiare il paraculo perché è quello che mi mantiene al governo e siccome che io sono paraculo come a loro ci avrò vita vita eterna al governo ripeto e non è destra o sinistra è proprio una questione di come uno vede le cose e niente ragazzi questo è quanto mi sono dilungato tanto e ringrazio ancora quindi c'è pure passaggio qua del gente quindi niente vi ringrazio e scusate ancora per la lunghezza del video e ripeto tante storie che mi hanno veramente colpito e anzi vi dico la verità se volete potete continuare a scrivermi mi è piaciuto molto leggere al di là dei consigli di tutto quello che mi avete scritto di dove andare e come fare mi è veramente piaciuto tantissimo leggere le vostre storie perché sono veramente quelle che ti fanno capire poi le difficoltà e tutto quello che c'è dietro una scelta così difficile di lasciare la propria nazione per un'altra scelta e cosa vuol dire trovarsi in un'azione estera con gente che non ha la tua cultura che non ha la tua storia che non ha è gente diversa da te come puoi integrarti e come è difficile integrarti in queste realtà ragazzi scusate ancora perché mi dilungo però ripeto questo è un canale di sfogo e questi giorni ho bisogno di sfogarmi quindi olivi dolci al prossimo video spero nettamente più breve grazie a tutti grazie a tutti